un caloroso benvenuto ragazzi io sono ladyflame ed oggi siamo qui su friday night funky il funk del venerdì sera scusate perché gli americani hanno il micchiaire più lungo allora questo è un gioco rhythm games sembra molto molto interessante visto in giro e devo dire però non ho mai provato mai giocato un gioco di games tipo dance dance revolution quello l'avevo provato forse da bambina ma una cosa vera e propria da fare con le dita no prepariamoci prepariamoci e partiamo con il tutorial tutorial perché non so come si fa proviamo molto l'età normale perché non so cosa fare va bene praticamente la storia e noi siamo questo ragazzino con i capelli azzurri e vogliamo uscire con la ragazza seduta sulle casse già mi piace la musica ok ok ti devo seguire ok ok molto carino mi piace anche lo stile del disegno mi piace anche lo stile del disegno ok ok questo era il tutorial ok quindi da una parte dello schermo ci sono le frecce che seguo il personaggio e dall'altra ci sono quelle che devo seguire io ok allora per uscire con questa ragazza però dobbiamo sconfiggere un po di bella gente cominciando dal suo papà che è un ex rock star ok andiamoci piano perché andiamo facile contro daddy di resta se guardate nell'angolo in alto c'è il nome del personaggio e sotto ci sono i nomi delle canzoni proviamo ok ok signor papà coraggio ok mi piace troppo questo piccolo segno di vittoria ok mi sto divertendo tantissimo di già ragazzi sono troppo gasata mi sto divertendo troppo tutto qua carinissimo oh ancora è molto lento rispetto alla musica quindi è più difficile so che non ha senso però è complicato vedete che è fuori ritmo riproviamo da una ventana normale ok ok no è faticoso davvero perché va più lento della musica va bene ah mi sono incasinata ok torniamo al menu e facciamo modalità normale ok la stessa canzone di prima intanto forse le note vanno leggermente più veloci non lo so mi piace che sotto abbiamo queste piccole barre della vita per vedere chi sta vincendo chissà chi sta vincendo chissà chi sta vincendo canticione chi ora mai chissà chi sta vincendo chissà chi sta vincendo mi piace troppo ok vediamo se soltanto leggermente più facile oh oh ok ah mi è in casino ancora come potete dire non mi viene subito a dire ok se sulla sinistra premo qua se sulla destra premo il dito così però non mi viene subito a dire che 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 non è 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 subito a dire Fretti! Cosa stai facendo? ce l'ho fatta ok ok mi sto divertendo mi sto divertendo molto si vede che mi diverto oh che bel ritmo oh ha promuuto troppe volte oh 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 mi spiu un casino non è andata proprio benissimo però è stato molto divertito io mi sono divertita mi sono divertita non poco andiamo alla seconda settimana con un spooky mouse ok no e abbiamo non so gunster da piccolo sopra un tipo come resta a forma di zucca andiamo andiamo chi sono i tuoi fratellini tu cugini gastro da piccolo ok oh ok ah mi sto già incasinando perfetto iiii facendo una figura orribile a sto morendo non è niente sto sopravvivendo non ci sto credendo non ci sto credendo ragazzi ce l'ho fatta non ci credo mai non so perché sono così sconvolta ma sono adorabile così da così uh uh è cambiato molto il ritmo cambia molto la musica ah lei ha paura del temporale fuori no troppo carina questa cosa mi sono incartata un attimo l'ultimo va bene chi se ne frega e questo è la schermata di quando si perde ho molte domande ma non li porto riproviamo riproviamo mi fa sempre ridere mannaggia proviamo proviamo vabbè 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 riproviamo facciamola in facile si la rifaccio in facile magari riusciamo ad andare a vedere non ciò uva molto una calma l'ultima non è per sempre c'è l'ultima e la ferita in l'ultima 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 un Comunque mi piacciono davanti queste musichette, perché sono troppo tenere Sto provando una tecnica nuova, con due dita di qua e due dita di là Praticamente la freccia alto e destra, l'uso con questa mano C'è una voce che dice cose inquietanti sottofondo, credo Ma va bene, non ci importa Ce l'abbiamo fatta, ok, c'è stata molta più soddisfazione prima Però non ci riuscivo proprio Nella seconda canzone, eccoci, eccoci Ho paura come sarà la terza Mi piace molto Carini E' un po' l'intel, le frecce però Woo Ho perso il ritmo, ho perso il ritmo E' un pasticcio Quindi rompete il ritmo So Con il ritmo e ce l'abbiamo fatta come tutto solo due perché anche questo tizio ne ha tre non è giusto picco picco con chi è il tuo ex dobbiamo battere il tuo ex adesso va bene vieni avanti bello vieni avanti e tu hai lasciato mister voce profonda per noi mi hanno distratto è passato un treno e si sono che mostri i capelli scusate l'artista non posso ignorare questi dettagli dove vado ah vuoi fare un duetto? vuoi fare un duetto bello? ebbene sono bravissima è la mia prima volta questo gioco ok non male non male non malissimo bene ma non benissimo come dicevamo mi ricordo che 3 2 1 più veloce della storia hai già perso la voce bello? che forte ma sto premendo perché dici che sbaglio premiamo troppo presto non lo so troppo presto? è un pelo più tardi te va bene ma presto no aiuto aiuto ho perso il ritmo ho perso il ritmo se lo faccio l'ho ripreso ti non sbagliare qualcosa sì mi incasino un po' a un certo punto ok abbiamo finito troppo come passa il treno possiamo bene capire oh ancora ancora ok ok bello è tornata la voce proprio è tornata la voce proprio a un strident un po' a un frattato questo è un po' a un coraggio quello che mi piace mi piace mi piace ho perso ne iscriviti o 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 giusto c'è ancora roba no abbiamo finito anche questo molto molto bene ragazzi il prossimo ok ok la prossima è la mamma però io direi che ci fermiamo qui perché già da un bel po' che sto registrando non so quanto lungo sarà il video ma non vi preoccupate il prossimo video ci sarà presto e non vi preoccupate non dovete preoccuparvi in sintesi perché ci saranno contro la mamma contro tanta bella gente non vi preoccupate perché torneremo su Friday Night Funkin come al solito potete lasciarmi un commento perché so che ci sono molte mode molte cose belle da vedere su Friday Night Funkin e potete scrivere tutto quello che vi pare potete scrivere anche un papiro quello che mi pare quante volte ho detto quanto quello che vi pare vabbè lasciamo stare potete sempre trovarmi su Instagram vi lascio tutti i miei link in descrizione mi dispiace ancora la mia assenza però è stato un anno davvero faticosissimo spero di rivedervi presto e alla prossimo ciao 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 ciao